Panorama, vai Rosa vai, andiamo verso il panorama con questi archetti molto belli in cima a questo paesaggio dalle ortigine chiaro che l'inquadratura sballocchia un poco perché il telefono è leggero vieni Rosa, vieni passa sotto agli archi Rosa, questi qua guarda che paesaggio, vai vai, un po' più sulla tua sinistra grande vieni Rosa, vieni vieni a raccontare un po' cosa hai visto da qua su si vede un mondo fantastico un mondo tutto bello vieni, vieni Rosa, vieni dove, dove? dove, dove? oh, ciao ciao inquadriamo un po' con questa chiesetta, dai che sta dietro di te vabbè chiudo l'inquadratura sulla chiesetta ciao